Domani per Agrigento potrebbe essere una giornata importante da segnare nella storia del capoluogo, se avrà infatti il risponso della città italiana delle 10 inserite nella shortlist che conquisterà il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020. La Commissione Nazionale istituita al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, preseduta da Stefano Baia Curioni, ha esaminato le 10 candidate e domani mattina alle ore 11 ci sarà il verdetto. C'è già trepidazione ad Agrigento, specie tra quanti hanno lavorato affinché la città dei Templi possa ottenere questo riconoscimento. La città vincitrice potrà rappresentare per un anno la nuova offerta culturale e turistica nazionale, attuando il proprio progetto grazie al contributo statale di un milione di euro. L'iniziativa è volta a sostenere e incoraggiare cartelloni di eventi e attività capaci di far recepire in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l'integrazione, la creatività, l'innovazione, lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo. Il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020 sarà assegnato dunque domani, nell'ambito di una cerimonia pubblica nella sede del Ministero a Roma, alla presenza del ministro Dario Franceschini. Il sindaco di Agrigento è stato già chiamato a presenziare alla cerimonia e fin d'ora ha programmato per sabato alle ore 11 una conferenza stampa alla presenza di quanti hanno sostenuto il progetto. Ricordiamo che le dieci città italiane che si contendono il titolo sono, oltre ad Agrigento, anche Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso.